Ari, 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 porco Mi sembra bilanciata comunque, vedi Clap, duuuuude, easy Cos? Non so come le abbiamo uccide, non ho capito l'interazione che è avvenuta lì tra i champion, eh Sincero Non ho capito un cazzo di quello che è successo in quel frangente So che ho preso un reset veloce, mi sono curato e poi non mi potevano ammazzare più Tutto il resto, Aram Whitsend? Questa è la vera domanda La Whitsend è una bilidis? Oh merda, lo salvate? Non ero convinto che Nooo Ero convinto che dovranno piccare ancora gli avversari Puttana macca No, vabbè raga, però Ok, oggi ce ne siamo una merda sta maratona Taglia, taglia, rifacciamo la ripresa come su YouTube Taglia, taglia La Whitsend è una bilidis? Oh merda, lo salvate? Non ero convinto Bravo, bravo Bravo, Carthus, bravo Come sei bravo Bellissima quella ulti di Gianna Quella ulti di Gianna, raga Vi giuro mi ha fatto venire il durello quella ulti di Gianna Oh, di quanto cazzo è stata brava Oh shit Why? Why ero in range della torre? Gioco, non ti baggare neanche su questo Su Dai, qualcosa non ti devi baggare Non ti baggare nel caricamento delle cose Nooo Dude, my life is over No, raga Ci ha demotati a di uno insieme ad Aatrox Adesso siamo sullo stesso livello di Aatrox Nooo Il gioco mi ha messo sullo stesso suo livello di abilità E adesso come faccio? Sono Platino quindi Dai Qualcosa non ti devi baggare Qualcosa non ti devi baggare 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 Ah ah ah! The fuck?! Eh? What?! Wait, di nuovo lo smite What? Come faccio da avere di nuovo lo smite? Praticamente se tu usi lo smite Prima di un minuto e trenta hai di nuovo lo smite Cazzo l'ho combinato quelli, se lo sono pure detti Cioè questa è la versione tipo autistica Di un piano, ragazzi non facciamo Questa cosa, moriremo, ok Facciamola lo stesso, aspetta ma siamo morti Why? 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 Ah Fan tempo Non ho capito come ha preso la triple That if he dies with the passive we die Bel gioco il GOP LEGEND Ok Beh ci sta È un bug È un bug normale Cioè può succedere ragazzi Tre persone full vita Muoiono perché Mordekaiser muore It's ok Qualcuno me lo può clippare per fuori Quello che è successo Mandiamo la clip a Twitter A Riot Ci spiega autistici bastardi Fixate il vostro gioco E non si dice Ho visto sai Oh E qua mi sa che ci schiattano tutti Upsi Sì Perché mi dovresti flammare Se non mi pinghi neanche Che l'avversario c'ha la R Per esempio E come mai vieni Dai vado sotto torre Con a ZIR Contro Karma Come mai sei sotto CS Contro Karma Mid con a ZIR Come mai metti zero ward Nella mappa Con il tuo mid laner Come mai non vinci mai Le partite col tuo mid laner Come mai Perché non sai giocare Come mai Come mai ci sono 5 in bot E tu ancora non stai ruotato Dalla mid E non hai neanche pushato La mid Come mai non sai neanche Che ha spawnato il drago E glielo stiamo dando Come mai quello in top Non viene a oltare Da questo lato Ok cazzo ragazzi Scusate Mi sto dicendo troppo Di quello che si sbagliano Gli alleati Ma è bad sorry Aspetta mi flammo un attimo Per avere il 100% Di kill participation Facchi il jungler Perché hai 3 kill su 3 Eh eh Stronzo Bastardo Eh 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 Nidelp Ere Team I request Your assistance Kivenport Venga Perfetto Perfetto Double kill Aria Ari aria Ari aria Porco Eh 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 Qualcosa non ti devi buggare Easy Buggare Upsi Eh 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 Why Aspetta Buongiorno Principessa Perfetto 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 Grazie.